Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. È risaputo che l'elemento diabolico è quello divisivo per eccellenza. La parola diavolo del resto deriva dal verbo greco diaballein, che vuol dire dividere, separare. Ebbene, cosa accade se l'elemento diabolico fa irruzione in seno alla cristianità? E quanto sta accadendo in fondo dal 2013 con la neutralizzazione del cristianesimo operata da Papa Bergoglio, che possiamo verosimilmente definire il primo papa mondialista della storia. Per parte sua, Giuseppe Ratzinger fu l'ultima eroica figura catecontica, di resistenza cioè alle potenze nichilistiche e anticristiche del turboglobalismo relativista. Ed è proprio per questo che Ratzinger venne sostituito dal nuovo pontefice Bergoglio, il quale, non per caso, venne celebrato già nel 2013 dal Time come personaggio dell'anno. Bergoglio sta neutralizzando il cristianesimo, sta producendo una fusione del cristianesimo con il mundus, sta generando quella che Ratzinger in una sua enciclica definiva la chiusura alla trascendenza. Ebbene, per questa via si è generato un vero e proprio scisma all'interno del mondo cattolico. È il trionfo del diaballe, appunto, del dividere. Da un lato abbiamo una parte della cristianità romana che ha continuato a identificarsi con il nuovo corso mondialista della Chiesa e lo ha fatto vuoi perché ha preso realmente a riconoscersi in esso, vuoi per inerziare le fede nell'istituzione ecclesiastica. Da un altro lato, però, vi è una parte del mondo cattolico romano che è rimasta fedele a Ratzinger e più precisamente è rimasta fedele al messaggio forte di un cattolicesimo che non si arrende al mondo, un cattolicesimo che in nome della trascendenza di Cristo e del Sacro resiste con vigoria al nuovo ordine mondiale e alle sue principali determinazioni materiali e immateriali. Pur senza nuove cattività vignonesi, lo scisma papale apertosi in seno alla Chiesa, che ora è sdoppiata nell'ala bergogliana e in quella ratzingeriana, riproduce in seno al regno cattolico la frattura dilagante nel mondo post-1989. Da un lato la openness cosmopolitica del mondo riconfigurato come mercato concorrenziale e dall'altra l'esigenza di uno spazio reale e simbolico che sia sottratto all'onnimercificazione e al nichilismo dei mercati, uno spazio aperto al controllo democratico delle comunità umane, al radicamento nei territori e nelle identità e anche al sacro e al trascendente. Ebbene lo scontro, ora silente e ora aperto, sta emergendo nella sua portata, ed è emerso in questi giorni in merito alla vexata questio del celibato e dell'apertura di Papa Bergoglio ai preti sposati. La questione è apparentemente secondaria, ma è stata con chirurgica precisione identificata da Ratzinger per quello che è realmente. Si tratta infatti dell'ennesima decostruzione del fortilizio della Chiesa. È una decostruzione volta a sciogliere la Chiesa con lente e solerte continuità nell'immanentismo laicista della civiltà dei consumi. L'ha detto efficacemente Antonio Socci. Dal 2013, dopo l'uscita di scena di Benedetto XVI, anche la Chiesa si è arresa e l'ha fatto piegandosi al nichilismo della civiltà a forma di merce, che fino a quel momento, con il pontificato di Ratzinger, aveva gloriosamente provato a contrastare. In effetti, Ratzinger si era assunto consapevolmente l'arduo compito di affrontare il nichilismo relativistico muovendo dal concetto, e dunque sul piano teologico e teoretico. Nella Missa Proeligendo Romano Pontefice, l'Omelia del 18 aprile 2005, così disse Ratzinger, aperte virgolette, si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Ebbene, rispetto a tale dittatura Bergoglio non ha nulla da dire. Egli anzi, in più occasioni ribadito, di provare disagio ad ammettere valori non negoziabili. Da dire invece a Bergoglio, come sappiamo, su porti aperti e sovranismo, su ecologismo e diritto internazionale. E il suo discorso è sempre sovrapponibile rispetto a quello del verbo unico globalista dei padroni della terra. In sintesi, se Ratzinger resiste fermamente al globalismo nichilista, Bergoglio, dal canto suo, finisce per lo più per opporsi a tutto ciò che al globalismo nichilista possa opporsi. È il Vangelo di Cristo contro il Vangelo di Soros.